Dramma lunedì mattina nel centro d'accoglienza di Via Aldini 74. Un uomo di 39 anni, si tratterebbe di un cittadino brasiliano, è stato trovato morto nell'ex scuola che da anni è stata trasformata in una struttura d'accoglienza gestita da Fondazione Arca. L'allarme è scattato alle 11.20 ma i medici del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 39enne. Nel centro è intervenuta la polizia per tutti gli accertamenti del caso, ancora pochissimi i dettagli filtrati ma secondo le prime informazioni raccolte non si sarebbe trattato di una morte violenta. A gennaio di due anni fa un altro uomo, un trentenne eritreo, aveva trovato la morte in Via Aldini. Mussi, questo è il nome del ragazzo, si era gettato da una finestra della struttura ed era morto praticamente sul colpo.